E la signora? Come sta? Come sta la signora? Mi ha mandato via! Mi hanno mandato via stamattina! Perché dice che il formaggio non lo dovevo comprare! Poi gli rompevo le tazzine! Il fatto del formaggio invece è che me l'aveva detto lei di comprarlo! Mi ricordo che ha detto il pane, la pasta, il formaggio e le ove! E che non me lo ricordo! Anzi, mi ricordo che ha detto proprio prendi pure il formaggio da Pietrangeli! Senti, non stiamo qui in mezzo Andiamoci a mettere a un caffè Dopo mi racconti! Io ti ho fatto venire per un servizio che mi dovresti fare!